Il finale che nessuno si aspettava ad inizio stagione quando veniva considerato il pezzo pregiato del mercato giallorosso, ma probabilmente valutando le ultime gare non deve essere considerato una sorpresa in senso assoluto. Oleg Antonov non è più un giocatore della Tonno Calipo Vibo Valencia. Il nazionale azzurro lascia la Calabria dopo nemmeno sei mesi e va a chiudere la stagione in Turchia, precisamente nello Zirat Bankasi Ankara. Il contratto è stato rescisso consensualmente, ma la decisione è stata presa dal giocatore. Potrebbero avere incisi risultati non certo positivi della squadra, l'ultimo periodo in cui Antonov si è spesso accomodato in panchina o magari anche altri fattori non noti, sta di fatto che Antonov non è più un giocatore della squadra vibonese. Il gruppo intanto prosegue la preparazione in vista della gara casalinga contro Milano. Ritornare al successo dopo il Capo Od Latina non può che essere un obiettivo prima delle due trasferte difficilissime contro Perugia e Modena, ma occorre far punti a prescindere dalle avversarie per dare un senso ad una stagione finora decisamente deludente.